L'unione fa la forza. La sperimentazione partita lo scorso luglio all'aeroporto di Malpensa ha dato i suoi frutti. L'aumento dei controlli sulla viabilità nei pressi dello scalo era l'obiettivo del protocollo promosso dalla prefettura di Varese che ha coinvolto comuni, forze dell'ordine, SEA, ENAC ed ENAV. La polizia locale di Ferno ha ricevuto il supporto dei colleghi di Varese, Bussarsizio e Gallarate, riuscendo a porre un freno ai problemi della viabilità selvaggia e delle lunghe code che si creano in particolare in tarda serata e al mattino presto, quando si concentrano rispettivamente i voli low cost e gli intercontinentali. Sicuramente è migliorato molto sia dal punto di vista viabilistico che dal punto di vista interno dell'aeroporto, in quanto noi abbiamo gestito oltre che la parte sanzionatoria e viabilistica, anche abbiamo mantenuto dei rapporti all'interno dell'aeroporto sicuramente migliorata, ringraziando anche le altre forze dell'ordine e delle altre polizie locali che ci hanno aiutato e siamo molto soddisfatti per i risultati ottenuti. Il buon esito dell'attività di questi mesi ha visto tutti i protagonisti d'accordo nella decisione di proseguire con il percorso intrapreso. Come proposto dal prefetto, Salvatore Pasquariello si è optato quindi per la proroga del protocollo che sarà esteso fino a giugno 2023. Le parti hanno siglato un impegno a continuare nella collaborazione in vista della firma ufficiale che si terrà dopo le feste. Nel 2023 vediamo il traffico aereo ancora in crescita, di fatto stiamo pensando di riaprire anche il Terminal 2, lo faremo sicuramente l'estate prossima, questo contribuirà a alleggerire un po' la viabilità intorno al Terminal 1 che però già di per sé prevederà il ritorno anche di aeromobili lungo raggio e quindi riparte anche la parte più intercontinentale e questo dovrà comunque essere gestito e assistito in termini di viabilità tanto quanto lo è stato nell'anno scorso.